Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Ha aumentato anche il prezzo del pane a sciacca, così come era già successo nel circondario. Come mai? Ma tutto è dovuto all'aumento del grano, quindi, e non solo, tutte le materie prime, a partire dai grassi come l'olio, lo strutto, il burro, il sesamo, le farine, l'aumento del gas e della luce. È un aumento repentino di tutte le cose, quindi noi siamo stati, forse siamo gli ultimi ad aumentare il pane, ma già in altri paesi è già da un mese magari che si è aumentato il prezzo. Non è un aumento voluto da noi, ma siamo costretti ad aumentarlo per il ringaro di tutte le materie prime. Come hanno reagito i suoi clienti stamattina? Ma al solito, c'è chi capisce, c'è chi invece dice la sua, comunque, ma non è il discorso che siamo noi a aumentare il pane perché, come dicevo, lo vogliamo aumentare, ma per il ringaro di tutte le cose che girano attorno, gli operai, le tasse, tutto, un po' di tutto. Grazie a tutti.